foto in gioco è un racconto attraverso l'opera di 18 artisti italiani di come nella nel contesto nazionale nel contesto italiano si sia evoluta l'idea di gioco e di intrattenimento o meglio di rappresentazione del gioco di rappresentazione dell'intrattenimento a partire dagli anni 60 fino ad arrivare alla contemporaneità una mostra che fa vedere dall'eredità pesante della guerra della seconda guerra mondiale l'italia stava uscendo attraverso sentimenti diciamo così di sospensione ma anche di entusiasmo nei confronti del futuro ecco quindi il racconto del gioco è questo come si è evoluto come si è trasformato e che cosa abbiamo oggi del gioco e come la fotografia è cambiata attraverso la narrazione di questo di questo oggetto di studio grazie a tutti